a fare delle proteste creative di rabbia e questa rabbia è diventata in modo creativo un po' dalla fiacola, dall'isola, dove abbiamo denunciato il ministero, abbiamo denunciato l'assenza della politica qui a Venezia e loro a Porto Torres e ogni protesta aveva un significato ben preciso di quel momento. Quando tu gli blocchi i cancelli e fai queste cose qua, fai una protesta che è scontata, quando invece vai sopra il campanile o vai sopra una torcia e invece c'è sotto zero, cambia anche a loro la percezione di protesta, gli scompini i piani che si sono programmati, non diventa più una cosa normale. Sai benissimo che quando dividi le persone impera qualcun altro, non siamo più noi a capo della situazione, è successo anche questo, che siamo stati un po' divisi e noi abbiamo pensato perché non, tra virgolette, riconquistiamo il nostro territorio, nel senso che Porto Marghera è sempre stato visto come il demonio nero che faceva solo male, ha creato 30-40 mila posti di lavoro, questo posto qui, ha creato delle professionalità che sono andate anche all'estero, con determinate sostanze chimiche prodotti, il PVC ne è anche un esempio, lo facevamo noi qua e con questo tipo di proteste, tranquille, civili, non violente, abbiamo riavvicinato anche la popolazione a pensare bene della chimica Marghera, non pensare più male, che qui si fa chimica, se si vuole, si fa chimica pulita e noi abbiamo iniziato a fare chimica pulita.